Simone Calori riparte dall'Alto Tevere e dalla Serie D. È stato ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo allenatore del Trestina. È bastata una stretta di mano o poco più per trovare l'accordo con la società bianconera? Sì, è andata esattamente così. Ci siamo incontrati due volte, la prima un po' per conoscersi anche da un punto di vista umano, che è la cosa più importante e poi dopo siamo arrivati alla conclusione di iniziare questo progetto insieme. Cosa l'ha convinta? Semplicemente il fatto che Trestina so che in realtà è. Io da giocatore ho giocato anche in Umbria, sia a Perugia che a Città di Castello. È una terra che mi è sempre piaciuta e volevo anche personalmente uscire un po' da quel contesto che ti rilega un po' al fatto di aver giocato piuttosto che a San Giovanni, che a Montevarchi, eccetera. Mi piaceva il fatto che Trestina è una società ambiziosa, lo è. È normale che non dobbiamo insieme ricommettere gli errori, sia io che la società, magari fatti negli anni passati, cercare di crescere. Siamo nella fase precedente, praticamente all'inizio ufficiale del lavoro. Su cosa si lavora in questo periodo? In questo periodo, come tutti gli anni, si lavora su chi rimane, sulla volontà di cercare di capire chi vuol rimanere, chi può rimanere e anche chi abbiamo una base sulla quale noi vogliamo costruire la squadra. Da un punto di vista umano non si può sbagliare, oltre che di qualità ovviamente, ma da un punto di vista umano qua a Trestina bisogna lavorare su quello. Grazie. 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 Grazie.